Ma tu hai proprio il numero di Raffaniello A me il numero? Io voglio chiamare Ma ma chissà quando lo chiamano se riconosce la mia voce Aspetta un attimì Peppi mi hai fatto sconosciuto a Raffaniello perché hai detto che stanno chiamando con sconosciuto A surice e risponde un attimo Che cosa? A chi ce le risponde un attimo? No sapendo Aspetta un attimo perché sono l'altro chiamato Peppi mi hai chiamato He è chiamato me l'ascutate che è rizzo ha detto oggi ho messo da una volta ci vuole che non piglio di